Buongiorno a tutti, ben arrivati. Oggi presentiamo con la Società Italiana di Medicina dell'Ambiente, la Sima, presentiamo questo decalogo che loro hanno preparato sugli spazi indoor, cioè sugli spazi, parlando diciamo all'asciura Maria, professor Miani, quella che è l'area di casa. Devo dire che noi ce ne siamo già occupati in una fortunata trasmissione televisiva qualche settimana fa, tra l'altro ha avuto ottimi ritorni la cosa e l'argomento è molto interessante anche da veicolare in qualità di comunicatori perché raccontiamo quali sono i piccoli accorgimenti, la Sima ci racconta quali sono i piccoli accorgimenti che le nostre mamme, le nostre mogli, le nostre compagne devono tenere per migliorare il nostro habitat naturale che poi è casa nostra, le nostre mura domestiche. Devo dire che un ragionamento del genere è da applicare, alcune aziende iniziano già a farlo da qualche tempo, anche sul luogo di lavoro. Questo ragionamento chiaramente non vale per chi lavora nel pubblico perché come sappiamo gli enti pubblici non si adegueranno, non si metteranno mai a paro rispetto a una situazione del genere. Comunque iniziamo un nostro giro di interventi. Io direi proprio con chi ha redatto il decalogo che è la professoressa Paola Fermo. Prego professoressa. Buongiorno, io assieme al collega Falciola dell'università abbiamo appunto redatto questo decalogo sulla qualità dell'aria indoor. c'è da dire che come anticipava lei, in effetti noi passiamo la maggior parte del tempo negli ambienti confinati, quindi non solo a casa ma anche in ufficio, a scuola, in università e siamo sempre tutti molto attenti perché ne sentiamo parlare spesso in televisione e sui giornali a quella che è la qualità dell'aria outdoor, cioè fuori. In realtà le nostre abitazioni dove in effetti passiamo la maggior parte del tempo contengono tanti potenziali inquinanti. L'inquinamento in parte arriva da fuori, quindi abbiamo i gas di scarico delle macchine ma non solo, quindi i gas che penetrano nelle nostre abitazioni e poi abbiamo tante sorgenti invece specifiche interne alcune delle quali ovviamente sono più note, il fumo di sigarette altre decisamente meno. Abbiamo polveri che arrivano da fuori, quindi particolato atmosferico che si accumula anche i gas tendono ad entrare, ad accumularsi e a dar luogo anche alla formazione di particelle che si generano proprio all'interno. Queste particelle hanno molto spesso dimensioni molto fini e quindi noi siamo in grado di inalarle ma anche di respirarle e arrivano fino agli alveoli dei nostri polmoni quindi questo rappresenta ovviamente un grosso rischio. C'è da dire anche che non esiste a livello di legislazione una norma unica di riferimento. Ci sono un paio di accordi che sono stati presi in passato relativi agli ambienti confinati, alle scuole, con delle indicazioni però sicuramente manca una strategia unificata e per questo che appunto noi siamo stati contenti di essere stati coinvolti dalla Sima per fare un po' il punto della situazione su quello che c'era e che cosa potevamo proporre ulteriormente. Ovviamente poi bisogna anche dare delle indicazioni relativi a quelli che sono anche i soggetti più a rischio che sono i bambini, che sono le persone asmatiche, allergiche che quindi sono più facilmente bersaglio di questi inquinanti interni. Posso lasciare anche la parola al mio collega che magari illustra qualche, fa il focus su qualche esempio pratico di inquinante e anche su come possiamo difenderci da questi gas e particelle. Salve, buongiorno, io sono Falciola e mi sono occupato insieme alla collega Fermo di redare il decalogo. Nel contesto che appunto ci ha appena illustrato la professoressa Fermo abbiamo pensato di pensare a delle norme, delle regole, dei buoni consigli come diceva lei prima, delle norme per la signora Maria che deve tutti i giorni vivere nella sua casa e far vivere nella sua famiglia. Dei consigli che ci servano per limitare l'esposizione a questi inquinanti che appunto sono nocivi. Da qui nasce il decalogo che sostanzialmente ha due grosse linee guida. La prima linea guida è quella di cercare di eliminare gli inquinanti presenti all'interno delle nostre abitazioni. La seconda linea guida è quella di cercare di evitare di introdurre di nuovi. Per quanto riguarda la prima linea guida, quindi la prima cosa che sembra semplice ma è la cosa fondamentale, quella di far areare i nostri locali. Anche più volte al giorno, anche per brevi periodi, 5 minuti sono più che sufficienti ma è importante areare. Areare è fare uscire appunto gli inquinanti e fare entrare l'aria da fuori. Usare le cappe, usare le cappe quando facciamo da mangiare perché questo è estremamente fondamentale per eliminare tutti i prodotti della combustione e nella preparazione dei cibi. Tutto questo ci permette anche di controllare meglio la temperatura e l'umidità delle nostre abitazioni, quindi il microclima delle nostre abitazioni, l'umidità che assume un ruolo estremamente importante. Soprattutto nelle case più moderne sembra che il problema dell'umidità è molto sentito e si sente molto spesso di abitazioni che hanno il problema della muffa, delle muffe. Le muffe sono molto molto pericolose, vanno subito eliminate, subito, con i prodotti specifici a base di candeggina e poi quindi la reazione dei locali. Per quanto riguarda l'evitare l'ingresso di sostanze nocive, prima cosa evitare il fumo che ormai tutti conosciamo, ma anche il fumo di candele, il fumo di incensi, evitare i profumi per la casa. E per quanto riguarda i detergenti cercare di utilizzare quelli meno aggressivi, quelli meno nocivi, come ad esempio l'aceto, il bicarbonato, e nel caso avessimo bisogno di utilizzare i detersivi più forti, ricordarsi di farlo magari con le finestre aperte, facendo areare poi i locali prima, durante e dopo il loro utilizzo. Inoltre è importante l'uso intelligente dei nostri elettrodomestici, cercando di pensare bene a utilizzarli secondo le norme, secondo le istruzioni. Quindi ad esempio gli aspirapolveri, i sistemi di impianti di condizionamento, gli umidificatori, per cui i filtri devono essere cambiati e cambiati spesso. E inoltre anche per quanto riguarda le stufe e i camini, cercare di utilizzarle con gli opportuni abbattitori degli inquinanti. Ricordiamo che la legna è uno dei maggiori problemi per quanto riguarda la produzione di inquinanti nelle nostre abitazioni. Come vedete sono semplici norme, molto basilari, ma che ci permettono di iniziare un percorso di consapevolezza, un percorso di formazione e di informazione, che ci permette poi di iniziare un discorso più generale, e anche nei confronti poi del legislatore, che ci permette poi di salvaguardare i nostri ambienti e la nostra salute. Grazie, grazie professore. Professor Miani, presidente di Sima, perché questo decalogo? Il decalogo nasce dalla volontà di essere promotori, nei confronti principalmente delle istituzioni, di una richiesta di chiarezza, di maggiore chiarezza legislativa e di regolamenti, che ad oggi sono presenti in alcuni casi, ma assenti a livello complessivo. Ringrazio anche la senatrice De Petris, che è qui con noi, perché si possa fare portavoce di questa richiesta, che non viene solo dal mondo della scienza, ma viene dalla popolazione tutta, perché anche questo tipo di inquinamento porta ogni anno a innumerevoli situazioni di disagio, di abbassamento della qualità della vita delle persone che vivono gli ambienti indora. Abbiamo parlato di case, ma pensiamo che ci sono anche le scuole, ci sono gli uffici, quindi ci sono tantissime situazioni in cui noi passiamo, statisticamente detto, tra l'80 e il 90% del nostro tempo in ambienti indora. E quindi in quest'ottica diventa fondamentale riuscire a identificare delle regole per prevenire stati di malattia e stati anche di morte prematura. In quest'ottica noi, come Società Italiana di Medicina Ambientale, vogliamo, siamo impegnati, più che vogliamo, siamo già impegnati in ambito di prevenzione ambientale, siccome anche l'aria che respiriamo è ambiente, in quanto occupa gli spazi vuoti all'interno del nostro organismo, e quindi diventa automatico il voler affrontare una tematica così importante che prima di oggi in Italia non era stata, diciamo, portata all'attenzione dei media e portata in maniera strutturata all'attenzione delle istituzioni e della politica. Questo è il motivo. Rettore, Ve lo presento prima, perdonatemi, il professor Antonio Felice Uricchio, rettore dell'Università di Bari, che da anni sostiene, o appoggia, diciamo, a fianca Sima. Questo è il primo, diciamo, grande studio, il primo paletto che Sima pone nell'ambito delle sue attività, però nel settore ambiente, nel settore medicina e ambiente, in questo connubio c'è tanto da fare ancora, da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista pratico, e loro riescono a, come dire, a trasferire lo scientifico al pratico. Credo che il lavoro che sta svolgendo Sima sia particolarmente prezioso. Io ho aderito al comitato scientifico non solo per una sensibilità sui temi ambientali, ma anche perché è profondamente convinto che occorra promuovere competenze scientifiche, anche capacità di promuoverle attraverso anche l'educazione ambientale, la conoscenza, il rapporto con il territorio, e sia particolarmente poi importante il ruolo delle istituzioni a questo riguardo. Credo che un'istituzione universitaria debba essere al fianco dei medici che si occupano di ambiente, perché possa offrire competenze di carattere tecnico-scientivo e sostenere anche un grande progetto che credo possa giovare alla salute di ogni cittadino. I temi sono molteplici. L'educazione ambientale che va promossa nelle famiglie, nelle scuole e negli ambienti di lavoro attraverso le buone pratiche, attraverso anche quei comportamenti che hanno un basso costo, ma che possono avere anche una ricaduta sulla salute assolutamente straordinaria, sia particolarmente importante il ruolo delle tecnologie verdi, la chimica verde, perché anche nella produzione di sostanze ecocompatibili, neutre, dal punto di vista degli effetti della salute, occorre ancora fare un grande passo in avanti. Bisogna anche impegnare tutte le energie e le risorse, sia di carattere tecnico sia di carattere scientifico, su questa direzione. e poi occorre anche guardare sempre più da vicino al rapporto che esiste fra ambiente e salute, perché è un rapporto strettissimo, di cui noi non possiamo anche perdere di vista le conseguenze, le conseguenze sulla qualità della vita, le conseguenze anche di carattere economico-finanziario, penso all'impatto della spesa sanitaria. Queste buone pratiche e il ruolo fondamentale della riconoscenza e dell'educazione ambientale hanno, credo, un grande significato. L'Università di Bari da tempo è impegnata su questi temi. È una delle università che è collocata nel Green Metric, cioè nella misurazione della capacità di promuovere l'ambiente tra i primi posti in Europa e soprattutto è anche impegnata dal punto di vista scientifico. Noi abbiamo, attraverso un progetto europeo, elaborato un'app che consente, scaricandola gratuitamente, di misurare la qualità dell'area negli ambienti, sia privati che pubblici. e Ispex si chiama questa app che è stata brevettata dai nostri ricercatori ed è un progetto europeo assolutamente quindi scaricabile gratuitamente e poi anche riesce a censire tutti i dati che vengono attraverso il proprio telefonino trasmessi a questa grande centrale quindi è possibile anche monitorare la qualità dell'area in tutti gli ambienti. Gli ambienti domestici sono quelli in cui si trascorre gran parte della propria vita quindi è particolarmente importante promuovere le buone pratiche avere un'adeguata conoscenza ma soprattutto stimolare anche i più piccoli alle pratiche perfettamente compatibili dal punto di vista ambientale. Grazie Rettore. Senatrice, lei viene da una tradizione ecologista che ha fatto delle battaglie in passato che sono rimaste e che oggi fanno parte diciamo del corredo legislativo del nostro paese ma devo dire che poi il protocollo di Kyoto prima e adesso Parigi l'accordo di Parigi ha assorbito molte di quelle che erano le vostre le vostre battaglie. Questo per quanto riguarda l'outdoor obiettivamente sull'indor non c'era nulla è la prima volta che si che si va verso intanto verso dei consigli ma credo che a breve ci sarà da sì ma arriveranno anche delle proposte delle cose molto interessanti alle quali loro stanno già lavorando. Diciamo che è un passo in avanti per migliorare comunque la qualità di vita delle nostre famiglie. Sì devo dire che la presentazione di questo decalogo ma anche diciamo la presentazione proprio della questione è assolutamente fondamentale perché il punto il punto principale innanzitutto quello di dare informazione e fare acquisire consapevolezza ai cittadini. Noi le nostre battaglie diciamo anche sull'inquinamento outdoor sono iniziate così sono iniziate ovviamente dal comitati da 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 molto lavoro anche da parte anche allora di di medici che hanno segnalato quindi hanno reso sempre più coscienti i cittadini anche dei pericoli dell'inquinamento preveniente ovviamente dal noi ancora a Roma oggi diciamo segnaliamo come si vede purtroppo insomma un allarme per per le centraline ma insomma vi sono misuratori vi è una consapevolezza vi è a questo sono seguite anche diciamo una legislazione in qualche modo conseguenza stabilire limiti fa scattare diciamo normative quindi da questo punto di vista il lavoro è stato molto lungo ma ha prodotto diciamo una coscienza ampia nei cittadini per quanto riguarda invece l'inquinamento indoor questa è come dire purtroppo da questo punto di vista si è molto indietro si è indietro sia per quanto riguarda una legislazione una normativa nazionale diciamo specifica e sia anche nell'idea che le istituzioni non hanno di un approccio diciamo in qualche modo sistemico alle questioni dell'inquinamento ora quello di cui parlavo c'è l'idea della consapevolezza c'è l'idea di trasmettere le informazioni è io lo trovo diciamo una delle questioni assolutamente centrali i consigli dati in questo decalogo sembrano piccole cose ma sono invece diciamo fondamentali anche per far capire quanto alcune cattive abitudini per mancanza appunto di informazione possono avere un'incidenza penso per esempio all'impatto sui bambini o passano ancora più tempo di noi spesso anche diciamo all'interno dei luoghi domestici anche dei luoghi chiusi ovviamente questo significa in tutte le questioni che riguardano l'ambiente c'è sempre un insieme di compiti che sono dell'istituzione della politica e dell'altra diciamo della possibilità di modificare anche individualmente stili di vita e buone pratiche però la politica ha innanzitutto il compito di segnalare di dire di agire e quindi di intervenire con una normativa specifica oggi abbiamo le conoscenze scientifiche da questo punto di vista il professore sa noi ci siamo anche recentemente insomma visti per tutto il lavoro e le discussioni sulle microplastiche per dire e quindi vi sono oggi conoscenze scientifiche possibilità diciamo del mondo accademico e di un'associazione come la vostra appunto della società di medicina per l'ambiente che può fare moltissimo come vedete sembrano piccole cose ma dietro ognuno di questi consigli vi è l'indicazione di un problema di un problema abbastanza serio pensate alla questione che riguarda appunto tutta la parte della pulizia della casa e lì ci sono buone pratiche ma ci sono anche la necessità di normative precise per quanto riguarda per mettere limiti agli inquinanti per operare una trasformazione anche del metodo di produzione che sia sempre più green questo è l'altro elemento fondamentale per cui sembra che si stanno presentando come di i consigli della signora Maria ma in realtà dietro questi consigli dieci un po' di più insomma diciamo del decalogo che c'è vi sono vi è un filone di lavoro e anche la necessità di un intervento non solo normativo ma anche di stimolo forte diciamo anche sul sul metodo di produzione pensiamo anche quanto è ignorato l'effetto per esempio anche delle vernici in qualche modo si sa ma pensate dei mobili per esempio il rilascio anche diciamo di una serie di sostanze anche se lì ci sono diciamo anche delle normative ma la coscienza e la consapevolezza da parte dei cittadini da questo punto di vista è scarsa e quindi è importante dal dovere dell'informazione fare questo lavoro ma è dal nostro punto di vista c'è la necessità oggi diciamo di una normativa che sia in qualche modo coerente e di un approccio sistemico torno a ripetere alle questioni che riguardano l'inquinamento perché riguardano appunto la qualità della vita e soprattutto l'approccio fondamentale in medicina in generale che è quello della prevenzione quindi io ben volentieri mi metto anche a disposizione per lavorare si intesta questa battaglia mi intesto questa battaglia perché credo che sia assolutamente centrale e fondamentale allora facciamo un secondo giro anzi chiudiamo il primo giro con Antonio con Antonio Persici che è il presidente dell'osservatorio imprese e consumatori imprese e consumatori Antonio anche dal nostro punto di vista cioè dal punto di vista del consumatore è importante respirare bene ma la nostra oggi è una testimonianza di vicinanza assoluta con l'amico Miani con Sima Olus che seguiamo sin dalla nascita in quanto osservatorio imprese e consumatori la parola lo dice innanzitutto due parole che cos'è osservatorio imprese e consumatori noi anche facciamo molte iniziative eravamo qui al Tempio di Adriano il giorno 6 sui temi dell'energia del DDL concorrenza che al suo interno contiene la soppressione del mercato tutelato era con noi Pecoraro Scagno ricordate tutti ex ministro dell'ambiente del nostro amico vicino a quelle che sono le nostre tematiche quindi oggi diciamo che l'osservatore imprese e consumatori che come dice la stessa denominazione rappresenta qualcosa che si definisce nel nostro motto il nostro motto è l'unica strada possibile quella che si percorre insieme verso il bene comune quindi se noi mettiamo il bene comune al centro non è certamente la lite che porta il bene comune oggi qui siamo in un luogo dove la lite specialmente in aula senatrice è veramente un qualcosa noi non siamo molto per la politica urlata e quindi siamo un po' per quello che è appunto l'unica strada possibile che si percorre insieme abbiamo qualche anno fa fondato l'osservatorio proprio con questa intenzione ci siamo riusciti abbiamo al nostro interno sette associazioni di consumatori a partire dal Codacons che svolge la sua politica del consumerismo abbastanza urlata ma quando siete con noi segue quella che è la nostra invece impostazione quindi diciamo che oggi siamo qui per una testimonianza forte di vicinanza su quello che è un patrimonio di tutti la salute e quindi l'ambiente una cosa non può essere assolutamente disgiunta dall'altra e quindi il più grande patrimonio che noi abbiamo quindi la salvaguardia del pianeta questa è quindi una semplice nostra testimonianza di vicinanza e non potevamo mancare anche se oggi è una giornata difficile per me però ho voluto esserci grazie velocemente un secondo giro alle 11 dobbiamo andare via inizierei con la senatrice che poi va un attimo qui nella saletta accanto a fare una dichiarazione per la RAI che già il ragazzo l'aspetta come dire concludendo il ragionamento che ha fatto prima una roba del genere un decalogo del genere secondo lei può diventare una proposta da offrire al Parlamento che si occupa di grandi ormai di grandi cose eccetera eccetera però poi nel concreto magari ogni tanto se pensiamo veramente alla signora Maria o all'asciura Maria come dicono loro a Milano non sarebbe male abbiamo soprattutto sul fronte della normativa ambientale insomma ci sono molti ritardi nel senso che io voglio qui segnalare anche in questa legislatura ovviamente si sono accumulati anche ritardi per fare anche alcune norme ci è voluto anche moltissimo tempo quindi c'è la necessità assolutamente diciamo di intervenire con l'approvazione tra l'altro del collegato ambientale si erano messe a base diciamo di una serie di linee guida ma io credo che su questo insomma vi è la necessità diciamo io credo di una normativa proprio specifica che permette di in qualche modo di intervenire di indicare di mettere dei limiti e soprattutto perché è strettamente collegata poi anche alla produzione per esempio prima facevamo l'esempio dei detersivi ma potremmo farne altri per quanto ci riguarda quindi vi è una necessità precisa e questo riguarda anche i luoghi di lavoro perché vi sono già ovviamente tante normative ma credo che anche su quel fronte bisogna ancora fare diciamo dei passi in avanti quindi io penso che questo è il terreno su cui con la collaborazione però sia di Sima che del mondo accademico bisogna provare diciamo a presentare anche una proposta organica di legge ma che non sarà non potrà essere una soltanto perché ovviamente deve fare riferimento a una serie diciamo anche di altre normative che magari debbono essere indicate e soprattutto fissare anche una serie di limiti anche del soprattutto per quanto riguarda gli agenti chimici che sono uno dell'elemento anche più preoccupante insomma anche più importante grazie presidente andiamo andiamo in conclusione andiamo verso la fine grazie certo 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 rapidissimo io ringrazio la disponibilità della senatrice come anche quella di altri parlamentari che oggi per motivi legati alla recente crisi al nuovo governo non sono potuti intervenire e sicuramente posso anticiparvi che questo decalogo altro non è che un primo step perché dal 2017 verrà istituito da Sima un rapporto annuale sulla qualità dell'aria indore fatto sempre redatto a livello scientifico e poi tradotto in maniera comunicazionale affinché tutti i cittadini italiani possano essere sempre aggiornati ed informati sinché la politica e poi le istituzioni promuoveranno dei regolamenti e delle leggi ad hoc professore Auricchio alla fine proprio concludendo ma perché ce ne accorgiamo solo oggi dell'importanza dell'indoor anche a casa credo che il tema non è nuovo per oggi c'è una maggiore sensibilità e soprattutto si aggiunge il fenomeno dell'inquinamento negli ambienti interni a quello degli ambienti esterni per cui esiste un effetto anche di propagazione ed inevitabile sommatoria fra inquinamento esterno ed interno che genera effetti particolarmente che può generare effetti particolarmente dannosi per la salute quindi il tema va assolutamente promosso attraverso la conoscenza attraverso l'educazione ambientale attraverso la regolazione e credo che i tempi siano maturi per poterlo fare grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti